È stata svegliata nel cuore della notte dal campanello di casa, ha aperto la porta per controllare chi fosse e si è trovata di fronte a uno sconosciuto di origini africane, che l'ha colpita alla testa con un bastone simile a un manico di scopa e poi le ha intimato in dialetto ostentato di consegnare tutto il denaro in suo possesso. Alla 64enne residente in via Caravaggio a San Donano non è rimasto che porgere 1000 euro in contanti al suo aggressore per poi tornarsene a dormire nonostante la ferita sanguinante. Questo è almeno il racconto che la signora ha fatto ai carabinieri presentatisi all'indomani in pronto soccorso dopo essere stati chiamati dai medici. L'anziana non aveva infatti sport o denuncia e aveva atteso il mattino successivo per farsi ricoverare dietro un'insistenza del figlio che era passato a trovarla in aro dell'accaduto. I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nell'abitazione e raccolto diverse testimonianze. Le indagini spaziano a 360 gradi in attesa che l'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona possa aiutare a far luce sulla vicenda. Siamo impegnati perché è un fatto grave, un fatto che ha sicuramente sorpreso per le modalità e per come è stato portato a termine. Non posso aggiungere altro perché veramente in questo momento stiamo facendo ulteriori verifiche e accertamenti per cercare di anche qui arrivare all'identificazione dei responsabili. Grazie. Grazie. Grazie.